Io vi ringrazio per l'accoglienza, una bellissima accoglienza, una pracente, un bel comune. Un saluto particolare per me che vi faccio al giovane sindaco, insomma una accetta bella, unita e anche un po' dispettosa mi sembra, è giusto che sia così, lui sta appena una già un'esperienza per poi prendere il posto di quello che poi sarà il nonno sindaco. Io ho una piccola riflessione prima di passare alla parte proprio più ufficiale, nel mio girovacale perché io mi sono posto come obiettivo appena arrivato di girare qui nei comuni, quindi andare a parlare direttamente con le associazioni di categoria, i consiglieri, i cittadini sulle problematiche che esistono nel nostro territorio di Vicenza, tutti più o meno hanno fatto, sollevato dei problemi, qui neanche uno. E' ciò che mi fa immensamente piacere, mi sembra di essere caduto, capitato, precipitato in piccolo errore perché sparto di stabilità è quello che è il neo, il primo comune che ha subito, che significa che è il comune. Bene, insomma, quindi iniziative, 45 associazioni e così. Bisogna prendere esempio, voglio dire, riconoscere, io non ho i dati, però insomma mi fido ciecamente da quello che ha detto il sindaco, quindi riconoscere, farmi un caso di compiacimento a come è stata gestita questa amministrazione. Quindi io vi inviderò, invio i futuri sindaci che verranno, non so se adesso il sindaco si regalino o no, anche uso bene a finito, insomma, la futura giunta a cercare di combinare quest'opene che figura, insomma, ha prodotto questi risultati. Quindi io vi ringrazio ovviamente per l'accoglienza e se avete pazienza passerei un attimo alla fase un po' più ufficiale.